Hanno cantato tutto, qualsiasi cosa noi abbiamo potuto eseguire è stato cantato. L'affetto che percepisco qui a Londra è sempre veramente tanto. La cosa che notavo ieri in particolar modo è che c'è realmente un 50-50. Cioè noi facciamo il nostro lavoro sul palco ma il resto viene fatto giù dal palco, dal pubblico che realmente partecipe. Vengo qui da, non voglio dirlo da quanto, comunque da tanto. E ovviamente una delle prime visite che ho fatto l'ho fatta proprio a Camden. Andiamo in Scozia, andiamo in location che già conosciamo, nelle quali abbiamo avuto sempre grandissime soddisfazioni. E ci aspettiamo anche lì, una grande partecipazione. È sempre stato così e credo che finché mi danno la salute di stare in piedi, godremo di questa cosa. London Wine Radio, ciao, I love you.